Recensione di Zopo ZP950, phablet da 5.7 pollici all'incredibile prezzo di circa 200 euro. Saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, oggi recensiamo Zopo ZP950, si tratta di un phablet, lo dice anche la scatola stessa, quindi un incrocio fra smartphone e tablet, per quanto questa definizione ancora veramente non riesca ad andarmi giù. Questa è l'enorme scatola, è veramente grande, come poi vedremo è enorme anche lo smartphone, al suo interno troviamo, oltre allo smartphone che abbiamo già rimosso, manualistica e sotto abbiamo auricolari stereo standard, cavo USB, micro USB e alimentatore italiano. Sul sito nel momento dell'acquisto, per pochi dollari in più, potrete aggiungere una cover, una carica batteria da auto e tanto altro, una pellicola per lo schermo. Una cosa molto interessante, allora no, prima partiamo dal prezzo. Il prezzo è di, mi pare, 280 dollari, nonostante il sito sia parzialmente in italiano, la vendita sia gestita dall'Italia, il prezzo comunque in dollari, la conversione al momento lo fa costare poco più di 200 euro al momento, quindi circa 205 euro, mi pare, alla conversione attuale. Dicevo, sul sito, oltre agli accessori che potete acquistare, potrete acquistare anche per 9 dollari, 9 dollari in più, i permessi di root, quindi vi verrà già spedito con i permessi di root. A qualcuno sicuramente potrà tornare utile, invece che perdere tanto tempo dietro a guide, firmware, cinese, eccetera, eccetera, chi non ha la capacità sicuramente avrà più convenienza nel chiedere il root prima della spedizione per 9 dollari. Quindi, questo è lo smartphone, l'enorme smartphone, per fare un paragone, questo è un Nexus 4 che entra praticamente nel display. Le fattezze ricordano ovviamente molto quelle di Note 2, è inutile negarle, è inutile nascondersi, qualche caratteristica tecnica, lo schermo da 5 pollici e 7 con risoluzione 1280x720 pixel, fotocamera da 8 megapixel, fotocamera frontale da 2 megapixel, processore dual core MTK da 1 GHz, connettività UMTS, quindi nessun problema ovviamente con le nostre reti, se no ovviamente non verrebbe neanche venduto nel nostro paese, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, GPS, batteria da 2500 mAh, sottile 10,2 mm, 1 GB di RAM, ecco, e memoria anche espandibile, memoria interna espandibile. Sul lato sinistro, completamente pulito, sotto abbiamo il microfono e il connettore micro USB, sul lato destro il bilanciere del volume e il tasto di accensione e sopra il jack audio, dietro la fotocamera da 8 megapixel con il LED flash, l'indicazione Zopo e lo speaker. I tasti forse si vede anche un pochino qua, questa è l'accensione, non è perfettamente dritto nel nostro esemplare, non che sia un grandissimo problema, però ovviamente qualche perfezionista potrà sicuramente storcere il naso. Cosa fondamentale che non avevamo ancora detto è che questo phablet è dual sim, lo vedete lassù, ci sono due simboli della rete, sono due reti Vodafone in questo caso, potete, soltanto il primo è OMTS, quindi nel secondo è importante sapere che si connetterà solo in GPRS, quindi niente operatori 3, niente operatori virtuali di 3, e niente connessione dati anche per gli altri, a meno che non vogliate andare molto lenti. Comunque si può fare, premendo anche su connessione dati potete fare lo switch fra una rete e l'altra. Questa cosa dello switch ovviamente vale sempre, se io vado a scrivere, da qua su, tirando giù la barra notifiche, posso passare da uno all'altro, questo come tutti i dual sim Android. Una scelta un po' curiosa, diciamo così, è quella, vedete qua sotto è presente un tasto fisico, che ovviamente è il tasto home, facciamo una prova, eccolo qua. Però sono presenti anche i tasti virtuali qua sotto, qui ai lati non è presente nessun tasto, quindi è presente un doppione per il tasto home, che però ha una funzione alternativa, questo è il task manager, ovviamente, se invece tengo premuto questo, ottengo il menu, e non il task manager come ci si aspetterebbe, giusto così, perché abbiamo una funzione in più. Anche se possiamo dire con una buona certezza che il tasto fisico è stato messo per richiamare l'estetica di Note 2, quando in realtà su un dispositivo del genere non c'è quasi nessuna utilità, visto che ci sono i tasti virtuali, oppure potevamo risparmiarci questa banda nera e mettere i tasti virtuali sotto, a scelta. Comunque questa soluzione così non è particolarmente sensata, non che sia un grandissimo problema poi in realtà. Forse è un po' piccola questa barra, rispetto alla dimensione dello schermo i tasti sono un po' piccoli e non sempre si riescono a premere al primo colpo. Cominciamo un po' di prove software, questo è AndroidWorld.it, l'avevamo appena aperto, quindi andiamo a caricare magari un articolo che non sia in cache. Siamo connessi al momento in Wi-Fi, sito in versione full, ecco qua. Rapido nel caricamento, buono anche lo scroll, c'è qualche micro in precisione, adesso ho premuto qualcosa. Premuto Android Magazine, va bene. Vedete comunque anche lo scroll risulta più che discreto, c'è qualche piccolo lag nello scroll ma proprio un minimo, invece anche nello zoom nessun problema. Quindi nonostante lo schermo con una grande quantità di pixel, che poi in realtà il numero di pixel è la cosa fondamentale, quindi non tanto la dimensione dello schermo. Andiamo nel menu delle applicazioni, abbiamo tutte le applicazioni di Google Standard, tra cui anche alcune applicazioni aggiuntive che spesso troviamo in questi smartphone dual sim, come per esempio il software per collegare i dispositivi connessi. Abbiamo visto la barra delle notifiche con tutti i vari toggle, anche qui questa è una cosa in comune. Abbiamo un file manager, dove possiamo gestire ovviamente, come potete immaginare, tutti i nostri file. La fotocamera, anche qui che è quella praticamente stock di Android. Veloce nello scatto e che realizza scatti anche abbastanza discreti, quindi questi 8 megapixel vengono fatti fruttare abbastanza. Avviciniamoci ancora un po'. La galleria dove andiamo adesso a fare una prova interessante, ovvero quella dei video. Questa è la MP4 Full HD, che non ci dà nessun risultato interessante. Stessa cosa peraltro MP4 HD, e infine l'MKV. Niente da fare. Questo nella galleria. Abbiamo poi un'applicazione dedicata che si chiama VideoPlayer, che vede i stessi file e ci dà però gli stessi risultati. Questo è un vero peccato, è anche un po' strano che di solito in questi telefoni c'è un buon supporto ai video, qui invece non abbiamo un supporto particolare ai video. Nelle impostazioni abbiamo la gestione della doppia SIM, che ovviamente è fondamentale. Possiamo decidere in modo molto comodo come utilizzare le nostre SIM, quindi quale per le chiamate, quale per le videochiamate, messaggi, connessione dati. E ovviamente poi possiamo cambiarle anche sul momento, avete visto, tirando giù la barra delle notifiche. Abbiamo dei profili audio, possiamo anche aggiungerne di nuovi, quindi cambiare un po' i profili. E infine abbiamo l'accensione e lo spegnimento programmato, quindi se mettiamo la sveglia alle 8 e 35, possiamo programmare l'accensione automatica alle 8 e 33 per dire, dargli due minuti di tempo per accendersi, e poi la sveglia suonerà. Quindi in un certo senso possiamo avere anche la sveglia da spento. Passiamo alla musica. Volume alto e qualità del suono anche buona, quindi un buon dispositivo per ascoltare musica. Abbiamo un task manager, abbiamo anche Skype reinstallato, abbiamo la radio FM, la torcia, il player video che abbiamo già visto. E un piccolo applicativo per aggiornare il software, anche se non ci sono aggiornamenti disponibili. Vi facciamo un attimo vedere Shadowgun. Come vedremo il gioco è abbastanza fluido, quindi nessun problema particolare di assegnalare. La cosa sicuramente buona, che possiamo dire, è che uno schermo così grande per giocare è sicuramente un gran vantaggio. 5 pollici e 7 ovviamente sono davvero tanti. 5 pollici e 8 ovviamente sono davvero tanti. Nel complesso lo smartphone è abbastanza soddisfacente. La dimensione ovviamente è un fattore a tenere in considerazione perché comunque è ancora più grande di uno smartphone, come per esempio può essere Note 2. Quindi comincia a diventare veramente una dimensione importante da portarsi appresso. In realtà basti pensare che al CES sono stati presentati anche smartphone da oltre 6 pollici, quindi non è certo questo il limite massimo a cui possiamo pensare. Il prezzo di 200€ è, possiamo dire, abbastanza corretto, è corretto sicuramente. Il fattore molto importante che potrà far propendere molti di voi per la scelta di questo smartphone è sicuramente la presenza del dual SIM, due SIM attivi ovviamente contemporaneamente. Per questa recensione di Zopo ZP950 è tutto, un saluto da Ciso per AndroidWorld.it